Oggi è stato un piacere condividere la testimonianza di Banco BPM relativamente a quelle che sono le competenze di sostenibilità. Abbiamo parlato di hard skills, soft skills, abbiamo parlato anche di una funzione che sia in grado di essere un po' da consulente per le altre strutture aziendali specialistiche, quindi una struttura centrale che possa essere un po' una cabina di regia, che possa un po' raccogliere le skill principali sulla tematica in maniera generale e la possibilità anche di associare questo tipo di struttura a delle funzioni specialistiche, quindi a delle hard skills legate poi alle diverse funzioni aziendali. Questo connubio di competenze fa sì che l'integrazione della sostenibilità possa avere una efficacia nel medio-lungo periodo e possa effettivamente entrare in maniera appunto ideale all'interno dei processi aziendali.